Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggi e adesso vi faccio vedere come si collega la propria carta di credito alla propria cruise card. Basta ritarsi davanti a questi punti di attivazione e scegliere la lingua di riferimento, in questo caso italiana. Avvicinare la propria cruise card, in questo caso Costa Card, al lettore. Clicchiamo su carta di credito e inseriamo la nostra carta di credito. Inseriamo il PIN, premiamo il tasto verde. Il lettore ci dice che sta verificando la nostra carta di pagamento ed ecco fatto, abbiamo collegato la nostra carta di credito alla cruise card. Ciao!